Salve, siamo in Virtualba, la patria di Sludol e di altri applicativi educativi molto importanti per la formazione a distanza, per il mondo sia bidimensionale sia anche tridimensionale. Abbiamo questo demo di Sludol Browser. Sono in compagnia dell'altro avatar, Zul Loon, e proviamo a utilizzare Google proprio nel decimo anniversario della sua esistenza. Le istruzioni sono abbastanza semplici e chiare. Digitando la barra e il numero 2 nella chat possiamo inserire un URL. Digitando invece la barra e il numero 3 con una parola possiamo fare una ricerca. Possiamo muovere il cursore a turno in maniera condivisa tenendo pigiato il tasto CTRL e muovendo la freccetta. Invece cliccando sul puntino rosso avviamo la ricerca. A turno cerchiamo parole come wiki e andiamo su wikipedia per esempio oppure andiamo a cercare podcast e per esempio le pagine che raccolgono le direttori dei podcast italiani.